non ha bisogno dei miei consigli ma le posso dire che al primo punto va messa la questione del disastro ambientale riguarda l'umanità intera achille occhetto lo ha detto a ellis linea in onda sulla sette al centro del dibattito l'alluvione che negli ultimi giorni ha messo in ginocchio l emilia romagna a tal proposito lo storico leader di sinistra ha detto io difendo l emilia perché sono preoccupato come cittadino italiano se la classe dirigente italiana non capisce che oggi bisogna unir sai per salvarci dalla catastrofe io ho paura sulla questione è intervenuta anche la segretaria dem in collegamento con la trasmissione siamo di fronte a un fenomeno di portata devastante negli ultimi quattro giorni è caduta la pioggia di sei mesi poi ha espresso piena vicinanza alle comunità e ai territori colpiti credo che in questi momenti serva l'unità nazionale a tutti i livelli ha proseguito la leader del p di noi ci siamo messi subito a disposizione del governo per lavorare insieme e trovare le risorse che servono nell'immediato la situazione è drammatica e non abbiamo bisogno né tempo per polemiche becere davanti alle tragedie la scelain infine ha ribadito la proposta di reindirizzare alcune risorse del pnrr proprio al capitolo del dissesto idrogeologico in italia l'immediato 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 l'immediato